...perderà anche di rifare l'extremote e il lesion ma per adesso ne faccio volentieri a me ma il lesion si secondo me è più fattibile lui l'unica cosa che ha è che gli piace sparire riapparire ma poi per il resto anche l'equipaggiamento master rank sicuramente ci dovrebbe tornare più facile eh questi qui si è solo di basso grado oh 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 bella beast Poi vedi, queste missioni qui io le uso anche per sperimentare, no? Dico adesso che so qui con la chat, non la so usare manco per un cazzo io, capito? È tutta sperimentazione, mani. Mamma mia. È sicuramente l'arma più tecnica, sapendola usare io sono convinto che sarà sicuramente una delle più divertenti. Io guarda, se ti guardi le armi che ci sono lì fuori, io le uso tutte e 14, per me non ci sono problemi con quasi nessuna. Però se ti dovessi dire che so usare un'arma, io ti dico falcione, balestra pesante e martello. Quelle sono le tre che io so veramente giocare. Il resto mi ci diletto un po', ma capito? Per cazzeggiare con missioni come questa vanno bene tutte. Piano piano magari imparerò a usare meglio anche le altre. Per cazzeggiare con missioni come questa vanno bene tutte. Per cazzeggiare con missioni come questa vanno bene tutte.